Ci racconti le emozioni di questa serata, oltre a una bella vittoria per te e Elisa Zanetti, se infatti avete cambiato un po' la partita, che soddisfazione è per te? Guarda, grandissima, sono molto contenta, a parte per me, ma veramente per tutte, per Eli, per le ragazze, perché in allenamento diamo veramente sempre il massimo e avere l'opportunità di entrare, comunque far bene, vincere la partita, penso che sia, c'è una gratificazione veramente grande. Settimo posto, Novara, era l'obiettivo che avevate posto, quindi soddisfazione anche per questo. Sì, soddisfazione doppia, direi che siamo molto molto contenti, ma io credo che ce lo meritavamo, perché è stato veramente un campionato lungo e difficile, abbiamo fatto un sacco di tie-break, però questo vuol dire che comunque abbiamo sempre lottato, quindi ora andremo a Novara carichissime. Una partita che siete riusciti a vincere con la testa, oltre a con la tecnica, perché perdere quel secondo sette in modo così era tabulente non era facile di rimanere in partita. No, infatti ero un po' preoccupata perché effettivamente, cioè come morale, era difficile riprendersi, però secondo me partendo comunque dalle palle che ci vengono bene, prendendo fiducia palla dopo palla, è andata come doveva andare, ma siamo stati molto brave. Grazie.